Sì, vorrei fare vorrei imparare quello che mi ha fatto Sì, vorrei imparare nella scuola in una cassa di patate patate Il custode del marecino che spiava le bambine del casino ora alla copra piena di biglietti per il buleo per il buleo lassù una cimenta ora io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora la scuola è una gran cosa e sopra tutto se ti consegna la scuola in una cassa di patate la scuola in una cassa la scuola in una cassa di patate e la scuola in una cassa di patate Questa è la testa ora! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti